Mia moglie Ciao, sono io Volevo dirvi che ho perso il treno Sono a Venezia Spero sia di suo gradimento Sempre meglio di un cinese Mi vuole contraria la signora Ma i cinese sono i più grandi ristoratori del mondo Lei non è le cadi Fernando? No, è un ospite E' qui in vacanza? E' in vacanza? Sì Secondo te è una cosa normale Che una piglia e chiappa se ne va così? Ma io non ho fatto niente Sono stata dimenticata sopra un autogrill La pregherei di fare le mie spiegazioni più esaurenti Il dottor Barletta non dorme più Non mangia più Io non posso credere che tutto questo risiede indifferente Scusa! Scusa! Ha le mani magiche Basta che mi sfiori E divento tutta un fuoco Gavola 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 Bernardo 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 Grazie a tutti.